Ma guardi che mi sembra che un ministro come Salvini sia quello che ha lavorato in assoluto di più e ha ottenuto più risultati di qualunque altro e quindi non c'entra quello che uno sta al ministero, è il lavoro che fa e mi sembra che i risultati diano assolutamente ragione a Salvini.